14 gennaio 2024 buongiorno buon pomeriggio a tutti voi eccoci in diretta per vivere insieme lazio lecce buonasera a manuel buonasera ragazzi buonasera giacomino detto anche jack 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 o meri no buonasera ai nostri due superstar ospiti ciao mattia a tutti e poi adesso il leggendario inevitabile fabio manconi guarda che bello allora microfono aperto ragazzi cari amici benvenuti a tutti voi vi rubo dieci secondi solo per ricordarvi che è in vendita il mio ultimo libro la mia ultima opera è fuggire per rinascere chi è interessato all'acquisto di questo libro è facilissimo c'è una copertura nazionale di circa il 90 per cento lo trovate anche in librerie minori ma il posto più veloce più rapido per acquistarlo è amazon lo store della mondatori lo store della feltrinelli oppure in alternativa per scoprire tutte le altre modalità di vendita vi basta andare su google digitare fuggire per rinascere di manuel manconi e vi tirerà fuori tutte le opzioni di acquisto per questo libro chiaramente ragazzi chi lo compra mi faccia sapere cosa ne pensa perché per me le recensioni ai vostri giudizi sono sempre molto importanti un saluto a tutti ciao pronti sta per cominciare il match stadio meraviglioso ragazzi mo vedico la coreografia che ha fatto la curva anche l'arbitro sta per cominciare lazio lecce sapete quanto io temo sta partita ed è iniziato in questo preciso istante lazio comunque molto compatta stadio bellissimo ragazzi attenzione perché passano tra le linee tiro dalla di deviato occhio mi sa che c'è angolo pellecce tiro deviato sembrava in nuovo poi c'è stata una deviazione che per poco non creava fa vedere palla deviata da padre era pericoloso era pericoloso quindi occhio a stazione allora di questo arbitro femmina donna ricordo che la prima arbitraggio femminile nella storia della lazio c'è una caratteristica sta ragazza secondo me fa molto bene si appoggia la caratteristica te lo dico te lo dico te lo dico non fare la soltina eronia vedi vedi che qua c'è lui che ci metti in inenza su questa cosa ma tu mi guardi con quello che ho capito ho fatto apposta sei cascata nel tranello la caratteristica qual'è che si appoggia molto alla bar secondo me saranno i giocatori che si appoggia molto alla bar no comunque guardate guardate come cambia l'approccio dei giocatori con arbitro donna fateci caso ragazzi ma no nel senso che vorrebbero mandare la faccia ma che fa no attenzione ma la c'è grande parata di provvedere no sto dirò seriamente invece di mannaffanculo arbitro non lo fanno ragazzi hanno un approccio diverso il provvedere ma è vero lo sai che quando si stai mai tagliati i capelli in vita sua che ne so non credo quelli in soli capelli mai tagliati mai tagliati in vita sua no no vado c'ho pure io così i capelli che ho cinqu'anni ma lui dice che non si taglia mai ma che cazzo c'entra ma che è un esperimento nucleare ma che cazzo dici ancora Lazio come è possibile i capelli non crescono più vinti che c'entra c'è staccava lui che stai niente se fatti i doppie punti si palla per Maru si sono due volte che entra un po' troppo attenzione attenzione buco di pensione della Lazio tiro provvedere facile facile la tiene attenzione ragazzi se era inserito chi è questo felipe anderson scarica per Isaksen me devi puntare Isaksen me devi puntare Isaksen me devi puntare Isaksen che troppo schiacciati mettete uno pori aria mettete uno pori aria torta miseria Zaccagni come fallo loro la spesa che ha visto una trattenuta grande che indossi ha fatto una lettura meravigliosa adesso adesso a spazio con luis aperto vallar piante del quarti capo del lecce luis luis la appoggia per felipe anderson no 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 così ha tentato una giocata troppo difficile la scarica una cosa ridicola la scarica pezzaccagni comunque nasce tutto da un ottima da un ottimo intercetto di gendosi ragazzi è felipe gioca di sponda per pellichini ma no che peccato era ottimo questa si bravo chi è questo rovella che fa sportellate ruba palla rovella isaksen vale la palla la riceve isaksen attenzione non c'è credo non c'è credo ha sbagliato un passaggio scolastico c'era ma allora perdonami è l'occasione è l'occasione io capisco che l'ha tirato un porta ma quello è proprio guarda questo mario gila bravo isaksen isaksen ancora triplo tripling ma si incastra e mezzo a due e cacchio scarica sta palla e attenzione pellegrini e angolo lecce attenzione ragazzi si provi una spazia attenzione attenzione un impallo ci potesse zaccagna o qua cartellino arbitro dal vantaggio non da voglio il cartellino c'era cartellino mamma mia 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 provvederci salva svegliato meno male che hanno tocca a bucato il tiro in porta ragazzi sul primo passaggio lecce pericolosissima comunque attenzione angolo per gli ospiti palla al centro mamma mia mamma mia mamma mia ragazzi l'avevo vista ragazzi complimenti a sta squadra che fa sempre e poi un gracic che la colpisce di testa e la butta via attenzione perché qualcuno bussa la porta ragazzi cioè ma vi rendete conto qua ma qua alessandro alimentari che ci ha portato qualcosa da assaggiare no vabbè grande ale scusate ragazzi qua siamo fatti qua funziona così a riduttare alle fatte vedere un attimo mi fa un saluto eccolo grande ale ragazzi aspetta aspetta già iniziamo ragazzi siamo stati non è che sta giocando ragazza giocano meglio il lecce cioè fra le occasioni c'è avuto il lecce non te la devi sta calma però già come la calma gila palla per provvedere non andai in ansia giacomella calma c'è più più no attenzione bravo marusi bravo bravissimo bravo bravo la palla luis alberto che fa caba gli ruba palla brecca del lecce siamo scoperchiati a sinistra veloce marusi forse dopo c'è un cartellino attenzione bravo chi è quello gila fa una cosa meravigliosa adesso il lecce ha scoperto brecca lazio felipe anderson però c'è la prima volta che è libero e lecce che è scoperchiato no no isa fare appare in culo battere appare in culo però lecce attentissimo la prende la butta via marusi ce le sta prendendo tutte che andosi ancora tra le linee no sbaglia l'apertura ma c'è pellegrini che attenzione lazio ancora messa male luisa ricorre lui se ne ricorre io guarda pellegrini quanto è lento per le prime non è colpa dei pellegrini mamma mia la mia deve finire il primo tempo bravo bravo questa sennò la portano a casa deve finire il primo tempo no 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 cosa ha fatto che si ci ha salvato gira era fuori gioco cosa ha fatto che si ragazzi ha dato un assist a kb ma meno male che era fuori gioco l'albio ha dato il vantaggio vediamo un po che ha fatto pellegrini perde palla fallo dei pellegrini ecco abbiamo capito che vi riesce al secondo tempo raga no buono giacca giacca devi sta buono si ma non devi nata per te la strattonarlo devi sta buono giacca nera fallo sei un coglione giacca gni hai preso un cartellino da idiota ammunizione giusta ha fatto bene l'arbitro che stronzata mandallo ha strattonato nooo 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 che stronzata guarda con chi gioca ma con Napoli con Napoli oh no attenzione scivola gendosi scivola gendosi attenzione bravo niente fallo applausi per gila questa ma devo ricordare i pagelle ragazzi eh gila meravigliosa adesso è la Lazio che fa il contro break ecco ancora Luis che prova il tacco lì non devi provare il tacco Luis gioca facile porca miseria Gabba a te limite la trigo del Lecce Zaccagni prendete l'aria Zaccagni Luis dai che c'è che indossi dentro Luis tiro ha preso fallaccio Luis ragazzi ancora Lazio pedro tiro palla alta finalmente quale di oscar riparte il Lecce ma allegrini mamma mia mamma mia brovella brovella break lazio guarda che indossi sta giocando male ma guarda guarda che indossi attenzione pedro palla per luis alberto voglio la magia luis alberto centrale palla Zaccagni nooo palla alta non c'è credo no questa questa cosa di petro gli da una pallaccia che non si l'aveva uscita però pedro cazzo scarica centrocampo no porca miseria gila 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 uno contro uno buono che ci mette fisico ragazzi gila la miglior partita della maglia della Lazio oggi per distacco parte novella ma c'è il marbito questo è fallo per noi mamma mia gila raga mamma mia gila ragazzi fisicamente impressionante non si è scolla da terra ragazzo rimessa laterale Lazio è successo ma come lo hai rotto il cazzo ma che ha fatto hai latto il cazzo era uscita prima fa vedere aspettate magari stamattina cazzata noi e raggio ma come se va Aspettazione Felipe! Non ho capito che cazzo è successo! Non ho capito che è successo Ma era nostra il laterale, ce l'ha andata a noi Fatemi capire, messa tra le tre a Lazio, ce l'ha andata a noi Fatemi vedere, Rovella Mamma mia che azione Rovella, Luisa Alberto, la piazza per Felipe che da grande bomber La butta sul palo più lontano, Lazio in vantaggio Ecco l'episodio buono, Felipe da attaccante centrale non sbaglia un colpo Ancora Lecce Ecco il cross accentuario Palla fuori, attenti che era tagliato bene sto cross Pellegrini Ma tu sei un c***one Pellegrini Sei un c***one, colpo di d'acqua a centro aria Brecce Lazio, Pedro Poi attenzione perché... Oh Pellegrini Pellegrini Ragazzi chi dice che vuole Pellegrini titolare nella Lazio non capisce un c***o di calcio Questo non è un giocatore di difesa Ma non lo voglio Gioca pericoloso Pellegrini Ragazzi gioca pericoloso Assolutamente in guard... Ragazzi non mi parlate più di Pellegrini titolare nella Lazio Mai più, porca troia, mai più Oh Zaccagni grande giocata Zaccagni si invola Felipe è solo Zaccagni adesso non è più solo Zaccagni esterno e lo so, ci ha provato Ghendosi Stop Ghendosi l'appoggia per Felipe La sponda Luis Azione stupenda La palla alta La tira a Felipe Ate Nooo Ha fatto benissimo Felipe Ate Dove la tirare? Attenzione Palla centrale Coppita è stato Mamma mia Mamma mia ragazzi Mamma mia ragazzi Io ho visto dentro para para Lecce ha un passo dal pareggio ragazzi Ragazzi Lecce c'ha... Bravo Lazzari Che strappa la palla all'avversario Dottor Bracca della Lazio Petro no Petro Di prima gliela doverà Ma vaffanculo a Petro Ghendosi ruba l'ennesimo pallone Bracca della Lazio Felipe Anderson C'ha spazio Felipe 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 Scarica per Zaccagni 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 Felipe 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 nooo Nooo Dai cacca Esci un lato G la Cabba Cabba apre bene Viene a dare la mano G Palla pazza e tiro Meno male che cicca Cabba Palla fuori Comunque fino adesso Lazzari fa 2000 all'ora Petro Mannaggia come rallenta il gioco Innamorato della palla oh Ghendosi Lazzari Lazzari Il cross Zaccagni non c'erano in soffio Comunque buon disegno del gioco Bravo Lazio Peccato Ghendosi Per Lazzari Lazzari entra Scivola la riprende Lazzari bravo Ci ha provato Ha sfruttato la caduta E sei via l'angolo Bravissimo Raga questo lo deve giocare E' pure un camata Ma vaffanculo Te è camata Giacomo Angolo Lazio Bravo andate Ghendosi 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 Zaccagni sfonda Zaccagni A Zaccagni Devi passare sta palla Porca puttana Mo fai prendere il cartellino a Ghendosi Porca droia Zaccagni Vaffanculo Te sta palla incollata al piede Porca puttana Ha fatto prendere il cartellino a Ghendosi Ma scarica sta palla no Porca C'è messo giù Fallo di che? Ma fallo di che? No ragazzi Ma questo non è Io so a due ore che sta da fare bene testa Arvito Ma che cazzo dite? No dai arbitra bene Ma che stai a dire? Ma questo è un errore C'è un errore no C'è un errore no C'ha ragione Ma non ha fatti venticinque Per me ha arbitrato bene Ma che sta da dire? Ma perché? Ma c'è pure il primo fallo su Felipe Anno Su Luis Alberto Io non sono d'accordo Allora Aspetta Già Vai Ma infatti si è un grande Arvito Ciao dubbi 85esimo Attenti a sto torno A volte tu stai al calcio come Margioio sta Oh eh Già Già Ho carino Ho carino Eh ho carino Provedere Provedere Palla lunga A cercare Vesino Oh Ghendosi recupera l'ennesimo pallone Palla per Felipe Aderson Aria di rigore Felipe 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 Attenzione scarica dietro Il classico Vesino Murato La palla sta all'accio In ammattire calcio d'angolo Azione d'oro per la Lazio Incredibile ragazzi Bravo Pedro Abito gioca che non è fallo E non la butta via E non lo v'è Ma ti ha fischiato Devo capire che è successo però Regà così senza Romagnoli chiede a Provedere Vabbè Corella Vabbè dai se una botta su una chiappa Non fa male Dai Allora Allora andiamo avanti Già Pulizione Lazio Ma devi da dietro niente Petro parte a testa bassa E perde balla Cazzo Perché deve forzare il passaggio Olquist si beve Marusic Attenzione Guarda guarda Attenzione Chi è questo? Gila No non c'è credo Non c'è credo Non c'è credo Gila E' addirittura vai avanti Vesino rallenta No ragazzi Vai Non c'è credo Vai su Vai su è libero Buono Ma che buono che sei Devi rallentare Vaga segnato Gendosi Vaga segnato Palla per Feripe Feripe Gendosi attacca lo spazio Feripe 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 si accentra Giro Si è ammasso benissimo Ciro e mobile Ciro e mobile Feripe La Lazio Vallegia Oddio che palla Bello Bello Vialo tutto Bello Bravo Ambozzalo Bravo Ciro Bravo Ciro Bravo Vai vai fermo Ciro Bravissimo Bravo Ciro Ha munito Ciro Ha munito Ciro Ha munito Ciro E non ha munito Falcone No dai No dai No regà Non è possibile Nooo Stavo senza attaccanti Pure ciro Stai efficienti Stai efficienti Eh l'arbitro Pronto l'arbitro Bene Non vuoi ci credi che l'arbitro è domani Ma Manuel ma per favore Dai No dai dai Il peggiore arbitro che mi ha beccato fino a mo' Guarda il peggiore in assoluto D'Orgu non lo fa di crossà Bravo Lazzari La palla è uscita è nostra Sì È finissima Dai ragazzi Vittoria pesantissima Sforca Dai Lazio Dai Lazio Dai Lazio Dai Quarta vittoria Consecutiva il campionato La decide Felipe ragazzi Che partita Godemose questa Era importante vincere questa ragazzi Questa era importante vincere Con Napoli ce lo sta che perdi Allora intanto c'è tensione in campo Tra i mobili alcuni giocatori del Lecce C'è Falcone che deve fare il fenomeno A casa